Chi ha paura di fallire alla fine sconfina o finisce nella mediocrità. Una frase davvero particolare e attribuita a un personaggio davvero particolare. Amici di Media Boarding, salve a tutti, welcome to our friends around the world, soprattutto benvenuti a Zurigo. Siamo infatti in questa importante città svizzera, ai confini con la Germania, e abbiamo veramente visitato con grande passione e con grande partecipazione una mostra fotografica che il Museum for Gestaltung, un museo dedicato alle arti figurative di questo secolo, ha dedicato a Olivero Toscani. Olivero Toscani, sappiamo tutti, è un grandissimo fotografo. Tra l'altro vive attualmente ormai da molti anni nella Toscana, la regione in cui è sede anche il nostro in Media Boarding. È un personaggio che ha fatto molto discutere, ha fatto molto parlare di sé, soprattutto perché le sue fotografie sono a volte efficaci, per non dire sempre, efficaci praticamente quanto un articolo, un violento articolo di giornale, violento nel senso buono del termine. Si discute un po' di tutto nella mostra, quindi ecco da qui nasce anche l'emozione con cui l'abbiamo visitata, e quindi da temi controversi, da temi dell'AIDS, da temi degli sconti tra ebrei e palestinesi, la guerra, addirittura anche delle cose dedicate proprio all'amore tra personaggi religiosi come un prete ed una suora, anzi è la foto principale della mostra perché è proprio posta all'inizio dell'esposizione. Consigliamo a tutti di visitarla, doveva durare un periodo di tempo limitato, e è stata prorogata per diversi mesi, quindi vale la pena veramente di venirla a vedere. E niente, noi siamo usciti da questo museo sicuramente arricchiti e sicuramente diciamo in grado di pensare di nuovo a questi temi che Oliviero Toscani con grande coraggio ha fatto uscire in almeno mezzo secolo di carriera. Con questo da Zurigo è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima occasione, vi ringraziamo per averci seguiti anche stavolta, seguitici ancora sui mediaboarding.it e su tutti i principali social network, a cominciare dal nostro canale YouTube, i mediaboarding, dove troverete una serie di video interessanti esattamente come questo. Ciao a tutti da Zurigo. Grazie a tutti.